Pressione al suolo in aumento sul Mediterraneo, ma moderata instabilità atmosferica per aria fresca in quota. In Toscana, mercoledì 8 giugno al primo mattino parzialmente nuvoloso per nubi basse sulla costa centro-settentrionale in rapido dissolvimento. Durante le ore centrali della giornata sviluppo di addensamenti cumuliformi sulle zone interne con rovesci sparsi. Mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie con punte fino a circa 30 gradi nelle zone interne di pianura, venti deboli da ovest a nord-ovest con locali rinforzi su costa e arcipelago. Sul territorio provinciale da nuvoloso a velato con deboli piogge pomeridiane sui rilievi, a Lucche sulla Piana temperatura minima 15, massima 26 gradi, in Versilie sul litorale minima 17, massima 21, in Garfagnane zone montane minima 13, massima 25 gradi. Giovedì peggioramento con piogge localmente anche di forte intensità.